Ciao Logaritme! Oggi volevo farvi un aggiornamento su una pianta in particolare, non so se ne farò un video dedicato oppure se inserirò queste clip in un altro video a riguardo di altro. Semplicemente la mia talea di edera ha iniziato a dare segni di vita e allora dalla contentezza ho deciso di condividerlo. Questa è la mia talea di edera prima come potete vedere in altri video in cui faccio aggiornamenti piante, tour e cose del genere, la talea arrivava più o meno fino a qua. Adesso sono spuntate queste foglie nuove e come pensate di avervi detto anche in altri video non bisogna rinunciare subito alle talee, specialmente quelle di edera perché è la seconda volta che mi cresce una pianta di edera dopo che è stata per diversi mesi ferma, silente. Infatti questa talea l'ho piantata sei mesi fa, rimaneva verde ma non dava segni di crescita né di morte e adesso sta cominciando a crescere quindi semplicemente il consiglio è di avere pazienza con queste piante. Sulla falsarie della buona notizia della talea di edera vi porto anche l'agrifoglio che è una di queste tre foglioline che per ora sono rosse e anche il limone si è svegliato con la primavera e adesso sta dando queste piccole foglioline nuove.